Per un'azienda come la nostra evidentemente avere delle persone che fanno parte alla fine della costruzione, quella dell'offerta di prodotti e servizi è alla base di quelle che sono le nostre preoccupazioni. Quindi in questi anni siamo riusciti in qualche modo a coinvolgere diverse comunità di persone poi alla fine e quindi passare da quelli che comunemente vengono chiamati consumatori, clienti, a persone è stato un passaggio fondamentale nella strategia della nostra azienda. A proposito abbiamo ideato diverse iniziative, iniziative di ricerca, iniziative che noi chiamiamo animazione all'interno dell'azienda per coinvolgere tutti i collaboratori per capire quali sono i bisogni, i desideri, le preoccupazioni di quelli che sono le persone di oggi ma soprattutto quelle che saranno le nuove generazioni, quelle del futuro. Quindi al centro della nostra strategia vi è proprio questo tema su cui oggi andremo evidentemente a spiegare un pochino più nel dettaglio. Come sono cambiati i consumatori nel corso degli anni? Il fatto che i consumatori oggi, comunque le persone, siano molto più istruite, più informate eccetera fa sì che siano anche più esigenti e critici nei nostri confronti. Quindi la responsabilità oggi di un'impresa è sempre più forte rispetto a quello che era in passato perché gli strumenti che hanno oggi le persone per informarsi, per confrontare prezzi, prodotti, offerte e quindi la relazione che noi abbiamo con le nostre persone, i nostri consumatori fa sì che anche le imprese in qualche modo sono costrette a seguire un po' quelli che sono i bisogni e i desideri delle persone. Ed è una bella sfida tener testa a loro. È molto difficile perché molto spesso sono anche, non voglio dire più esperti di noi ma comunque hanno tanti strumenti che prima non c'erano, se oggi pensiamo agli smartphone oggi una persona può andare in qualsiasi negozio e confrontare la qualità dei prodotti, dei prezzi non solo di quel negozio ma anche dei negozi vicini al proprio negozio quindi penso alla georeferenzazione dei negozi fa sì che davvero a un passo di click una persona possa in qualche modo fare un benchmark veloce di quelle che sono le offerte in quel momento e quindi poter oggi, come si dice, fidelizzare un cliente è davvero più difficile rispetto a prima. Grazie mille. Grazie a voi.